ciao ragazzi con questo coronavirus la gente sta impazzendo ma li brutto più dei cellulari vanno ai supermercati svuotano i supermercati perché sennò non mangiano io di quello che ho visto mi sono messo a ridere la gente italiana è veramente fusa ragazzi è veramente fusa ma peggio dei cellulari da quello che sto vedendo comunque fattaci loro ciao amici